Come si fa il federalismo differenziato? Come si fa il federalismo differenziato? In estrema razio possa sostituirsi all'amministrazione locale o a quella regionale se le verifiche, se il monitoraggio segnala che in quel contesto non vengono rispettati i livelli essenziali di assistenza, che ricordo sono un diritto esigibile da parte di tutti i cittadini italiani a prescindere dalla latitudine alla quale abitano. Grazie. Grazie.